Ogni anno TSM Trentino School of Management si impegna nella realizzazione del piano di formazione. Nel 2019 sono previste più di 80 iniziative formative e lo spazio in formazione permanente della biblioteca digitale con l'obiettivo di valorizzare e aggiornare le competenze professionali del personale degli enti pubblici del Trentino, fra i quali Provincia Autonoma di Trento, i suoi enti strumentali, Società del Sistema Pubblico del Trentino e Consiglio Provinciale, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Università degli Studi di Trento. Per soddisfare i molteplici fabbisogni formativi della pubblica amministrazione, il piano di formazione 2019 si estende in otto aree tematiche. Per ampliare la propria offerta e continuare il suo percorso verso una formazione sempre attuale e innovativa, Trentino School of Management propone due nuove proposte per il 2019. Professione Manager, un'attestazione rivolta al management pubblico che intende valorizzare un approccio formativo multidisciplinare mediante la frequenza di almeno 30 ore, sommando le attività formative individuate nel piano in ambiti specifici. E IoDigitale, un nuovo progetto formativo triennale che abbraccia cinque aree di competenze digitali e organizzato su tre livelli di padronanza, base, intermedio e avanzato. Ogni dipendente sarà libero di strutturare il suo percorso formativo sia trasversalmente, ovvero per area di competenza, che verticalmente, per livello di padronanza. Una formazione innovativa, attuale e continua è l'impegno che Trentino School of Management si propone di fornire a sostegno di una pubblica amministrazione che innova. Il Piano di Formazione 2019 Nuove idee per la pubblica amministrazione trentina Per maggiori informazioni www.tsm.tn.it